Due comunità unite dal corallo come elemento culturale ed antropologico. Questa mattina a Liceo Artistico Degni, a Piazza Luigi Palomba, a Torre del Greco, la presentazione della rete di scopo per promuovere la candidatura della lavorazione del cammeo e del corallo come bene immateriale dell'UNESCO. Stamattina siamo qui con i comuni di Castro di Volci, Pastera e Vallecorsa per la presentazione della rete di scopo che promuove la candidatura dell'incisione a cammeo di Torre del Greco come bene immateriale, candidature all'UNESCO. La lavorazione del corallo è un elemento che accomuna le diverse comunità anche che vanno oltre la Campania, quindi nel Lazio le comunità che ho citato prima avevano questa tradizione, cioè quello di regalare alle giovani spuse gioielli in corallo. È un'occasione anche questa importante, è un momento anche questo importante, e lo dimostra il fatto stesso che siamo qui all'Istituto Degni che è appunto la CUL, il contenitore di tutto questo patrimonio culturale che ha la nostra città. Questa rete di scopo nasce quindi tra le comunità sia cittadine, tra associazioni di categoria, c'è l'Asso Coral, c'è il Comitato Promotore UNESCO e nasce proprio come l'obiettivo di promuovere la candidatura a patrimonio immateriale dell'umanità della lavorazione a cammeo. Questo serve a portare avanti il lavoro che si sta facendo da un paio d'anni come corallo ben immateriale riconosciuto dall'UNESCO. Sono dei vari passi, dei piccoli passi per arrivare a questo che è il nostro obiettivo per quanto riguarda il riconoscimento dall'UNESCO. Abbiamo scoperto che anche nel territorio nel quale adesso sono dirigente c'è l'elemento del corallo come elemento culturale e antropologico non solo del paese di Castro e Volci ma anche di Pastena e di Valle Corsa e quindi abbiamo iniziato, partendo proprio dalla scuola, un percorso che ci permette di rivalorizzare questo elemento come elemento culturale, quindi come valorizzazione del territorio e in più come elemento che poi possa essere rivalorizzato in questo momento e amplificato come elemento futuro per poter essere studiato e quindi maggiormente apprezzato dai nostri ragazzi. Scoprire di avere questo qualcosa in comune, questo qualcosa di prezioso per noi ma nello stesso tempo sicuramente di più per i cittadini di Torre del Greco ha fatto sì che il dirigente facesse questa proposta per aiutare a essere promotori e noi siamo ben felici di partecipare a questa promozione e siamo ben felici di dare questo senso di unità in queste due comunità distanti ma a questo punto molto vicine. È per noi motivo di grande orgoglio essere qui e far parte di questa rete di scopo, di questa grande comunità, di questo grande progetto. Non possiamo che essere orgogliosi di appartenere a questa comunità quindi grazie al nostro dirigente scolastico, il professor Gennaro Sorrentino che è riuscito a trovare questa interconnessione tra queste due comunità e noi come amministrazione non potevamo tirarci indietro abbiamo subito preso la valla al balzo e per noi, ripeto, motivo davvero di vanto di appartenere a questa identità culturale e che però può avere anche dei risvolti non solo culturali, identitari ed ideologici ma soprattutto anche economici può creare nuove opportunità di lavoro per questo territorio e per le nostre comunità quindi benvenga questa rete e grazie a tutti. Grazie a tutti